Dopo partita di Girifalco San Calogero terminata 6 a 2 per il Girifalco con le reti di Fodaro, doppietta di Vonella Leonardo, doppietta Quirino e gol del 6 a 2 dell'esordiente Valentino. Per il San Calogero invece doppietta di Monteleone. Siamo con il portiere del Girifalco Roberto Stranieri a cui chiediamo conclusa nel migliore dei modi della stagione con qualche rimpianto probabilmente. Diciamo che siamo partiti nel paese. Il Girifalco ha unito dopo tanti anni due società. Non era facile, soprattutto quando si trovano due società importanti, lo ripeto, che erano US ed Euro Girifalco unire per il bene del paese. Il primo anno deve essere un anno di assestamento, non bisogna fare voli pindarici altrimenti si rischia di fare una caduta con grosse conseguenze. Il primo anno è andato bene, siamo partiti così così, a rilento. Poi dopo le feste natalizie ci siamo ripresi, ricompattando il gruppo, rimettendo i pezzi del puzzle a posto. Dispiace perché, giustamente sì, come avete detto voi, rimpianti, sì, però c'è stato un periodo dove si stava lottando per la retrocessione e mo' dalle ultime cinque giornate eravamo tranquilli, quindi più di questo non potevamo fare. Assieme a noi il preparatore atletico Sgro e il vicepresidente Andrea Marinaro, buonasera. La stagione è ormai conclusa, come ha detto Roberto, abbiamo iniziato un po' con qualche difficoltà. Per fortuna dopo le feste natalizie ci siamo ripresi, questo è merito di tutti quanti di chi oggi ha concluso la stagione e ci è stato vicino soprattutto nei momenti di difficoltà. Quindi merito di tutti, grazie ai ragazzi, alla società, ai miei colleghi, al mister, al preparatore atletico che è qua con noi, il giovane Nicola Sgro, a tutti quanti. Grazie. In compagnia del capitano del San Calogero, Grillo Salvatore, chiediamo, una brutta sconfitta ma la squadra era parecchio rimaneggiata e il risultato ormai non aveva più senso, nel senso che eravate già salvi. Salvi già da due giornate, diciamo che siamo arrivati a quest'ultima giornata anche demotivati, a parte le assenze di alcuni ragazzi, ma tutto sommato è finito questo campionato, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello prefissato a inizio campionato e va bene così. Dispiace per la sconfitta, ovviamente, ma ci sta anche perché da un po' di giorni che non andiamo in campo per gli allenamenti, però dai, bisogna però ripartire già dai giovani il prossimo anno con nuovi obiettivi. Grazie.